Ghost Runner è sopra ogni altra cosa una sfida contro se stessi. L'action platformer di One More Level, 3D Reams e Sleepgate Ironworks, si presenta come un titolo visivamente straordinario, adrenalinico e incredibilmente aperto alla rigiocabilità. La demo a disposizione su stima permette di avere un assaggio di quello che si prospetta essere un gioco destinato a fare centro, con un gameplay molto aperto alla sperimentazione. La demo coincide con l'inizio effettivo, ci si ritrova nel corpo di un cyber ninja con l'obiettivo di correre in soccorso di una persona non meglio identificata, nota come Whisper. È proprio lui a programmare passo dopo passo il software da remoto, così da permettere di acquistare le capacità utili a raggiungere la cella dove è tenuto prigioniero prima che lo facciano i nemici. Se c'è una certezza che non risparmia nessuno durante i primi tentativi, è la morte. Costante, puntuale e causata soltanto in parte dai soldati che pattugliano con zelo l'area. In un coreografico insieme di salti, corse lungo le pareti, parkour, bullet dodge e occasionali fendenti di katana, bisogna infatti trovare le soluzioni tattiche migliori per superare ogni sezione, combinando in maniera efficace fra loro le abilità di cui si dispone per non morire sul colpo. Basta un proiettile per porre fine alla corsa, in un istintivo rimando a Mirror's Edge, Superhot e Hotline Miami. Ma è l'ambientazione stessa rappresentare un pericolo, poiché un salto mal calcolato o un'attesa di troppo fanno cadere immediatamente nelle strade sottostanti. La morte non è d'effetto, ma considerata la velocità d'esecuzione e la quantità di decessi, una schermata che permette di tornare subito in partita senza perdere il flusso dell'azione, appare una soluzione adeguata. Forse si può pensare di rifinirla in futuro per avere un impatto visivo migliore, ma in termini di funzionalità non si potrebbe avere di meglio. Niente schermate di caricamento, nessuna pausa. È sufficiente premere un pulsante per rientrare in gioco e continuare come se non ci si fosse mai fermati. La presenza di nemici, e dunque la componente action, è poi più di un diversivo dall'esplorazione. È il perno attorno cui ruota la maggior parte delle meccaniche, spaccia in situazione dove vanno a combinarsi assieme. Non serve sempre uccidere tutti i nemici nella zona, anzi è conveniente liberarsi soltanto degli ostacoli effettivi lasciando indietro i soldati meno pericolosi. Il fascino di Ghostrunner risiede in una costante sfida contro se stessi fino a raggiungere una supposta perfezione. Usare il controller da un lato è leggermente meno fluido, ma risulta più comodo di mouse e tastiera quando si devono combinare le azioni. Per mettersi ancora di più alla prova si può anche disabilitare l'interfaccia utente. In questo modo viene a mancare sia la mappa sia il puntatore del fendente. C'è sempre un motivo per migliorarsi e soddisfazione nel riuscirci. Una soluzione ideale univoca non esiste, e tutto dipende dallo stile di ognuno. Seppur breve e limitata, già la demo propone tanti approcci per risolvere una stessa situazione, tutti attuabili. Ghostrunner si affida a soluzioni già sperimentate e implementa quelle che ritiene migliori per la sua azione, interamente sviluppata attorno all'adrenalina e alla rapidità d'esecuzione. Il risultato è un gioco votato alla rigiocabilità, alla sperimentazione e a una costante sfida contro se stessi. I controlli sono funzionali sia con mouse e tastiera sia con il pad, e la speranza è che gli sviluppatori sappiano dosare le meccaniche senza eccedere. Ghostrunner è in sviluppo per PC, Xbox One e PS4, con l'uscita prevista per il 2020. Cosa ve ne pare? Avete già provato la demo disponibile su Steam? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro.